Volevo solo ringraziare il nostro sponsor che ci ha dato l'opportunità di fare questo bellissimo giro in e-bike che va al Seer e questi sono i concorrenti questo è il nostro capitano che ha vinto una tappa adesso è un po' Devo riprendersi allora beve E invece lui è il mio comando io non dico niente Passo il microfono a un altro manager E niente come ha detto il nostro socio ringraziamo tutti per la bella giornata l'opportunità che ci hanno dato e grazie di tutto Io volevo ringraziare i partecipanti Purtroppo l'anno scorso non si è riusciti a fare la tappa Busca Sestrier ce l'hanno annullata prima del covid Ci siamo rifatti quest'anno Grazie alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti